Un buongiorno, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, quella di mattino 6, staremo un'ora insieme per leggere i principali quotidiani della nostra regione, ovviamente, anche quelli nazionali, partendo come di consueto dalle prime pagine di questo giovedì 6 febbraio 2020. Allora cominciamo con le prime pagine dei giornali di casa nostra, questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara del Centro, torna l'incubo, tir sulla Adriatica, nuove chiusure sulla 14, mezzi pesanti a Montesilvano e a Città Sant'Angelo. In alto il box coronavirus, la Cina annuncia la cura, ma viene prontamente smentita. A centro pagina, Pescara, la storica scuola in difficoltà, la regione corre in soccorso dell'Istituto Ravasco. E poi nelle cronache, maxi schermi nel mercato e la nuova Movida, due maxi schermi, lato mare e lato monti, installati nel mercato di Piazza Muzzi e il progetto del comune per attirare la Movida al coperto. Questo è un progetto. Negozi chiusi in centro, il commercio perde i pezzi a Montesilvano. E poi per lo sport, il gioiello Bocic a segno lunedì sera contro il Cosenza e già nel mirino della Juventus. Sotto la foto, trupprai picchiata in due, finiscono a processo. Cugini a giudizio per l'aggressione a Rancitelli e a giornalisti e operatore. Di spalla, come vediamo, ricchi e poveri dà applausi e Ragneri Ferro sono le star del Festival di Sanremo. Cambiamo edizione, sempre il centro, Chieti-Lanciano-Vasto. Questa è l'apertura, scegli il tuo sindaco oggi, lo spoglio, i risultati in arrivo, domani la classifica. E la fotonotizia che vediamo in basso, chiude la Feist, 16 operai presidiano la fabbrica. Settore automotive, annuncio shock. Sempre a Chieti, i consiglieri in carica, pronti a ricandidarci. E poi a Vasto, assalto armato al Todis, 4 anni di carcere a testa. Sotto la foto, svuota le carte di credito, preso, Chieti, giovane incastrato dalla polizia grazie al riconoscimento facciale. L'edizione di Teramo, sempre del centro, soldi sequestrati ai furbetti del sisma. Teramo in due hanno preso indebitamente 12 mila euro di contributi. A Roseto, bomba carta, devasta l'ingresso di una pizzeria, una notte di paura, ovviamente. Nelle cronache, tensione tra Italia Viva e i fedelissimi di Dalberto. Ovviamente si parla della nuova giunta a Teramo, a Giulianova. In centinaia danno l'addio all'arbitro Franco Bey. L'installazione Giulianova-Scippa-Goldrake a Teramo. Vedremo anche tra poco sulla prima pagina del quotidiano la città ripresa questa notizia. A 14 anche qui, viadotto Cerrano chiuso di notte, previsti 12 stop per lavori sulla strada statale adriatica. Ovviamente torna l'incubo dei tir. L'edizione dell'Aquila, l'edizione aquilana del centro, donna morta, inchiesta in ospedale, sul Mona. Denuncia in procura del figlio di una 79enne di Corfigno. La foto, balconi crollati, anche il ministro rischia il processo. Progetto Casell'Aquila, all'epoca era il collaudatore. Nelle cronache, Confindustria boccia, lancia il patto di crescita. Il presidente di Confindustria all'Aquila, autovelox bussi, la segnaletica non è corretta. E poi neve in alto sangro, tir fuori strada sulle 5 miglia per evitare i bus. Semaforo, incubo, tolte 40 multe. Siamo ad Avezzano, provvedimenti della prefettura per il caso del contestato impianto T-RED. Cambiamo giornale, andiamo sulla prima pagina del messaggero. Balconi crollati, inchiesta KO, l'Aquila, cedimenti nel progetto Case, prescrizione e assoluzioni dopo 6 anni di indagini. Per i collaudi dei terrazzi rischia invece il processo il ministro dell'Università Manfredi. In alto, Rancitelli, truppa aggredita durante il reportage al Ferro dei Cavallo. Giovani nei guai. A Chieti, polizze irregolari, 3 a giudizio per la gestione della piscina. Lo sport serie B, Pescara, troppi indisponibili. La maledizione dell'attaccante, dal crack di Tuminello all'infortunio dell'ultimo acquisto, Pucciarelli. I biancazzurri non sono riusciti mai ad acquistare una punta centrale. Vediamo di spalla la strage di imprese. L'Abruzzo scopre che il piccolo non è poi così bello. L'economista Mauro, ormai le aziende operano su scala globale. La foto, siamo a Roseto, attentato, bomba devasta la pizzeria. I titolari dicono mai ricevute minacce in passato. A provocare l'esplosione intorno alle 4 dell'altra notte un ordigno rudimentale. La potenza ha provocato gravi danni. Villetta blindata nel frigorifero un chilo di droga. L'abitazione era abbandonata da anni. Funzionava come deposito di eroina. Siamo a Pescara. E poi l'allarme. La mafia vuole i pascoli per i contributi. La criminalità organizzata è interessata all'acquisizione dei pascoli abruzzesi, come leggiamo, per poi ottenere i contributi della GEA. L'allarme è stato lanciato proprio all'Aquila. Sanità, reparti pieni e emergenza. Sovraffollamento quotidiano nelle parti di geriatria e medicina dell'ospedale civile di Pescara. Vediamo la prima pagina del quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Bomba davanti alla pizzeria di Roseto. Ritorsione o avvertimento si indaga sull'ordigno che ha danneggiato l'anima concept pizza. E poi qui, come vediamo, ritroviamo il progetto Goldrake, bocciato a Teramo, ma che potrebbe riaprire nelle acque dello scalo a Giulianova. Goldrake a terra al porto. Vedremo poi se sarà così. Intanto leggiamo i box in alto. Le infrastrutture, ok, al quarto lotto, terza corsia è Pedemontana. E poi a Pineto, gli angeli dei canguri raccontano la loro avventura. All'interno sempre in maltempo, tanti danni. Chiesto lo stato di emergenza, soprattutto per il forte vento. La discarica di Santa Lucia, giornata decisiva quella di oggi. E poi per la politica, Podemos e Italia Viva ai ferri corti dopo il rimpasto di giunta. Andiamo adesso sui quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Corsa per la cura del virus. Ovviamente parliamo di coronavirus. Pechino, due farmaci efficaci. L'OMS frena. Non esiste ancora una terapia stabile. La coppia ricoverata a Roma. I cinesi rientrati in Italia scelgono la quarantena. Fai da te. Per quanto riguarda la politica, giustizia e vitalizie di Maio, torna e invoca la piazza. E poi, maxifesta di laurea. Questa è una notizia molto particolare. In famiglia, tutti i dottori nello stesso giorno, madre e sei fratelli, discuteranno la tesi il 6 febbraio. Tra quattro giorni a Urbino. Un'intera famiglia che si laurea. Allora, tanti complimenti a loro. La Repubblica. Ora, per questo governo, l'odio è un'emergenza. Intervista la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, dopo le minacce. A Scalfari e Repubblica. L'indifferenza non è tollerabile. Serve un'igiene nelle parole della politica. La Segre è di esempio. Portiamo un nuovo linguaggio nel paese. Cominciando dalle scuole, avviso del Quirinale. Non ci sono altre maggioranze nella legislatura. E poi, la storia. Fate tornare a casa il nostro Laurent, il ragazzo ivoriano, morto nel carrello di un aereo francese. Giorgia Meloni, negli Stati Uniti, sarò il premier della destra. Queste sono le parole della leader di Fratelli d'Italia. Il fatto quotidiano. Bollette a 28 giorni. I rass dei telefonini ci devono un miliardo. La tredicesima mensilità è un inganno. Rimborsare i clienti. I gestori già multati dall'Agicom, però, non vogliono pagare la sentenza del Consiglio di Stato. Sui nostri soldi. In alto, tutti i trucchetti degli avvocati per rallentare i processi penali. Di mai o 5 stelle in piazza, anche sui vitalizi. Ovviamente qui si parla di prescrizione. In basso, come vediamo, il coronavirus è ripreso in un box. L'autocuarentena dei cinesi di Prato. E lo scanner blef. E poi il Senato degli Stati Uniti assolve Trump. L'exploit Buttigieg in Iowa. Ovviamente si parla delle primarie democratiche. Volano gli strappi. Questo è il manifesto. Nel comizio show sullo Stato dell'Unione. Lo sgarbo istituzionale di Trump al Congresso. Si rifiuta di stringere la mano alla speaker Nancy Pelosi, che replica strappando platealmente il suo discorso. Come vediamo nella foto. Al Senato i repubblicani assolvono il tycoon. Cestinato dunque l'impeachment. In alto il contagio verso i giorni del piccola lotta al coronavirus. Tra speranze e annunci. Ricercatori in 60 mila. Come allo Spallanzani. Libero. La Cina trova la cura. L'ONU però non ci crede. Il virus fa litigare il mondo. Ricercatori asiatici. Due farmaci potrebbero inibire il morbo. Burioni ci spera. L'organizzazione della sanità. Nessuna terapia è efficace. I morti crescono. Requiem dell'autonomia. Fontana. Il governo imbroglia. Queste le parole del governatore della Lombardia. Prescrizione. Con buona fede. Sono rimasti quattro amici al bar. Renzi e Grillini vanno alla battaglia. Finale. Il messaggero. Virus scontro sulla cura. A casa gli studenti italiani. La Cina annuncia un nuovo vaccino. L'OMS smentisce. Servono 675 milioni. Contagiato un neonato. Ponte aereo per rimpatriare i ragazzi. Le aziende restano. A centro pagina. Lo sfregio di Trevi. Segnaletica truccata per dirottare i turisti. Ovviamente siamo a Roma. indicazioni false per deviare il flusso verso i negozi. Sospetti su un commerciante. E poi per lo sport. Ieri sera c'è stato il recupero dell'impegno della Lazio in campionato contro il Verona. Lazio niente sorpasso all'Inter. Due pali negano il secondo posto per Luis Alberto e compagni. solo 0 a 0 nel recupero con il Verona. Il sole 24 ore. Bilancio UE. Investimenti green anche nei paesi con debito alto. Vediamo la foto. Ortofrutta. Il Nord Africa attacca l'export italiano. Spagna, Olanda e Polonia sono ormai concorrenti consolidati nell'ortofrutta italiana sui mercati europei e internazionali. Ma nel 2019 anche, come leggiamo, i paesi del Nord Africa, Egitto e Marocco in primis hanno strappato quote di mercato al Made in Italy. Pagamenti tracciabili, scontro sul rinvio, mille proroghe, possibile usare contanti fino al 1 aprile, ma c'è il nodo coperture. In basso, auto a Wall Street, Tesla a rischio caduta dopo la folle corse. Il titolo quadruplicato dal giugno scorso, ieri ha ceduto, pensate, il 20%. Il tempo picchia tua moglie e avrai casa. La proposta alla regione Lazio, una risoluzione. Prevede di assegnare gli alloggi ai familiari che riempiono di botte, consorti o compagnie. L'opposizione proteste una follia, così saranno penalizzati i mariti che si separano con civiltà. Frase shock di Toscani sul Morandi, ecco la strategia per riabilitare. Benetton in basso, terremoto, soldi solo per le foto. La Lazio all'Olimpico, inciampa sul Verona, finisce 0-0, sorpasso sfumato. La stampa, prescrizione. Buona fede, minaccia il governo, se rinviate mi divetto. Si tratta per evitare la crisi, l'ipotesi dello stop solo dopo il secondo grado. In alto impeachment, il Senato assolve Donald Trump e poi Alan Friedman dice che il Presidente diventa un monarca. Peraltro a pochi mesi dalle presidenziali 2020 e a pochi mesi dalle presidenziali 2020, come vediamo su avvenire, Trump vince facile, il Presidente al Congresso elenca i successi e azzarda il meglio deve ancora venire. Il Senato blocca l'impeachment, applausi al discorso sullo Stato dell'Unione, democratici in crisi in Iowa. Prevale uno sconosciuto e il sistema va in tilt. In Cina 500 morti, ma crescono i guariti. Due farmaci efficaci, ma l'OMS dice che ci vuole prudenza. E poi svelato il blef salvignano sui tagli all'accoglienza dal Viminale più flessibilità ai prefetti per i bandi sull'ospitalità. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani sportivi. Partiamo con la Gazzetta dello Sport e con questa notizia che potrebbe essere shock, malmessi, perché Leo Messi è arrabbiato. A giugno potrebbe incredibilmente lasciare il Barcellona. L'analisi di Carlo Laudisa perché la Serie A intrigherebbe Messi. Cartellino gratis, ecco i club che sono in grado di tentarlo. Paris Saint-Germain, United, Juve e Inter potrebbero pensarci. Pensarci a Bidal punta Neymar o Lautaro Martinez. Peraltro a Bidal con cui ha avuto lo scontro Leo Messi che potrebbe portare all'addio. Staremo a vedere il Verona. Intanto stoppa la Lazio, torniamo ai fatti di Serie A di casa nostra. Stoppa la Lazio, l'Inter ringrazia. Il recupero di Serie A, l'Olimpico finisce 0-0. Niente sorpasso ai nero-azzurri. Luigi Garlando dice una frenata nella lotta al vertice. E poi meno tre al derby, come vediamo al derby di Milano. Derby che sarà degli opposti, il Martello Conte e il Normal One Pioli. Sfida tra due caratteri molto diversi. E poi Sanremo, Fiorello, che show con Novak Djokovic. Che ha appena vinto gli Australian Open e che era presente proprio sul palco di Sanremo. Stasera invece Georgina è atteso anche Cristiano Ronaldo. Intanto Djokovic ha palleggiato e cantato con Fiorello che quest'oggi sarà da Sinner. Il Corriere dello Sport. L'intervista esclusiva, balo, nudo. Ovviamente non dal punto di vista, non letteralmente. Ho 29 anni e due figli. Ho sostituito l'istinto col lavoro. Soddisfatto? No, ma sono ancora in tempo per rimediare. I bu sono sfotto e non razzismo. Non lo escludo, ma mi fanno male. L'inciviltà non può essere tollerata. Lukaku è fortissimo. Chi mi ha impressionato è Lautaro Martinez. Iguain è super, ma io sono fan di Dybala. Pazzesco. Poi sul compagno di squadra Tonali mi ricorda Gerard e Lampard. Lo vedrei bene dietro le due punte a margini di miglioramento a Bissali. Questi sono alcuni dei passaggi dell'intervista di Ivan Zazzaroni a Mario Balotelli. In alto Lazio solo pali e niente sorpasso. Due legni di Luiz Alberto. Negano in Zaghi la vittoria nel recupero con il Verona. 0-0. L'Inter resta seconda. Ma, come dice Alberto Dallapalma, il sogno scudetto per i bianco celesti ovviamente continua. In basso CR7, Festa e Sanremo. 35 anni per Ronaldo. Georgina lì cerebra sul palco dell'Ariston. Il codice gattuso, il rilancio del Napoli. Il recupero dei big Cosirino ha svoltato. E poi Firenze innamorata. La crociata di Rocco Commisso ha stregato i tifosi. Sabato appunto ci sarà niente meno che il Commisso Day. Tutto Sport, Pogba dice, lascio lo United. Ronaldo, che regalo. Compleanno con test atletici, da record, supercar per Cristiano. Mentre all'Inghilterra rimbalzano le parole del francese via da Manchester. Andrò da chi mi vuole bene. In alto Longo riporta Asta a Torino e l'entusiasmo. Mille tifosi per l'allenamento guidato dal nuovo tecnico che ha voluto con sé un altro cuore granata. Antonino Asta, che negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere anche in Abruzzo. È stato seduto sulla panchina del Teramo. Adesso torna da quella che è la sua squadra del cuore. Torino, quello con cui ha passato tantissimi anni da giocatore. Eccolo qui. Antonino Asta insieme a Moreno Longo, che è ovviamente l'allenatore dei Granata. Lazio, solo due pali e il sorpasso è mancato. In basso le interviste per in Juve Scuola di Vita. Poi i curtoni, così sono rinata nello sci. Gancia, amo Juve e Motori. E poi, scherma Coppa del Mondo, Foconi, guida l'Italia del Fioretto in pedana a Torino. Noi ci fermiamo per questa prima parte. Adesso spazio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità. E poi torniamo insieme per sfogliare i quotidiani di casa nostra tra poco. Seconda parte di mattino 6. Allora, riprendiamo iniziando la lettura delle pagine interne dei quotidiani. Partiamo con il centro. Ecco qua, la pagina Abruzzo. L'incubo statale autostrada a 14. Viadotto chiuso di notte. Sulla Adriatica tornano i tir previste sul Cerrano. 12 chiusure dalle 22 alle 6 del mattino. Si comincia da questa sera. E la società Aspi è interessata a entrambe le corsie. La società Autostrade per l'Italia consiglia come alternativa, neanche a dirlo, la nazionale. In basso, Giacco nella squadra dei volontari di autismo Abruzzo. E poi per il core, come gentile, è perché ho votato contro il piano. Dall'altra parte siamo già a Pescara, Piazza Muzzi. Il progetto piano di rilancio dell'area mercato, maxi schermi per attirare la movida. Proposto allo studio del comune per la struttura del coperto, servono interventi sulla sicurezza. Partite di calcio e proiezioni di film per ragazzi anche di pomeriggio e il resto della settimana. Intanto il mercato all'aperto in Viale Pepe arrisca i posti destinati agli ambulanti. Ma a proposito del piano di rilancio di Piazza Muzzi e l'area mercato, i residenti come vediamo chiedono controlli qua a troppe risse e ubriachi. Il comune vuole combattere lo smog acustico in centro, intanto. Dichiarata la guerra rumore, mappa delle strade più chiassose. Andiamo avanti. Rimanendo sempre a Pescara, ricordate la troupe Rai picchiata a Rancitelli. Gli aggressori saranno procezzati, rinviati a giudizio di Pietrantonio e suo cugino Cellini per le botte ai tre giornalisti e operatori che stavano girando un servizio a ferro di cavallo. Anche il premier Conte stigmatizzò l'episodio. Sul Ponte Flaiano, bloccato dalla finanza con un chilo di marijuana, c'è chi ha fatto anche di più. Scoperto oltre un chilo di eroina in una villetta abbandonata, strada vecchia, colle Sandonato. Ecco qua, la droga sequestrata dalla polizia in una villetta abbandonata. Ravasco, contributi dalla regione, sospiri, serve chiarezza sui debiti. Gli studenti hanno incontrato il presidente del Consiglio regionale che ha promesso fondi per salvare la storica scuola di Viale Bovio. E sabato, faccia a faccia tra i vertici nazionali dell'Istituto e le famiglie. E vedremo quale sarà il destino dell'Istituto Ravasco. Cambiamo pagina, pagina 16. Enrico Piano, nessuna riunione carbonara su telefonate di aiuto. Si chiude con nulla di fatto anche l'ennesima richiesta di approfondimenti di indagini su incontri dopo la tragedia. A fianco, l'operazione dei carabinieri. Via Volta, arresto e denuncia per la droga nascosta in casa. L'operazione dei carabinieri. E poi, stop agli sperperi. La spesa di notte costa meno, così si evita lo spreco di cibo. Inaugurata ieri a Pescara l'app che consente l'acquisto a pochi euro degli alimenti invenduti nei locali. Già 10 gli esercenti entrati nella rete, tra cui Berardo e Osteria 1000. Noi box solo prodotti freschi. Così magari si evitano davvero gli sperperi. Da oggi a domenica in vendita le arance della solidarietà e poi digital marketing diploma per i corsisti laziali dopo quattro mesi a Pescara. Siamo a Montesilvano. I negozi, si parla di commercio in città, negozi. Il centro perde un'altra attività. Qui non entra più nessuno con la chiusura del bar fuori dal comune in piazza Diaz. I commercianti se la prendono con la pedonalizzazione. Il sindaco Ottavio De Martini stiamo facendo di tutto per rilanciare l'area dalla zona franca per incentivare il commercio alla organizzazione di eventi. Il saluto dei titolari del bar chiuso, Sara e Loris e i clienti è un mondo difficile, dicono. In basso, cento rame sul palco dell'Ariston, l'attore Montesilvanese a Sanremo, la madre che emozione. Allievo della scuola di Giampiero Mancini, un predestinato, lo zio Quinto Paluzzi, un passato da calciatore. A Pianella, tetto distrutto dal forte vento, tre strade invase dalle macerie, danni del centro storico, paura nella zona della chiesa di Sant'Antonio. Il sindaco Marinelli, scena incredibile, ora le verifiche. Nessun ferito, oggi sopra il luogo del genio civile per individuare eventuali lesioni agli altri edifici. Comune, via libera al salario accessorio, buone notizie per i cento dipendenti, siamo a Montesilvano, in attesa da due anni di 74 mila euro complessivi. Francavilla Pescara, verso il ripristino dell'autobus notturno dal foro a Zanni, nuovi orari per l'estate, come leggiamo. Incontro tra amministratori delle due città per riavviare il collegamento del 21, che ora termina le corse alle 22.30. E poi, fumi via Brecciara, l'Arta, non sono tossici, siamo a San Giovanni Tiatino, il sindaco Marinucci rende noti i risultati delle analisi e rassicura i cittadini. In basso, stagione record a Palazzo Sirena e arrivano i mini abbonamenti. E qui vediamo Giancarlo Giannini e Lino Noguanciale, che evidentemente sono stati protagonisti indiscussi. Dall'altra parte, a letto manoppello, un botto e i rami dell'auto sono svenuto. Donato Di Paolo stava tornando a letto manoppello quando un grosso pino gli è crollato sulla macchia, l'ho scampata, dice questo signore che è sopravvissuto a questo albero, crollato proprio a Scafa e che vediamo nella foto, solo l'anno scorso il 59enne si era battuto per far tagliare dal comune un albero pericolante proprio vicino casa sua. Il sindaco dice adesso via il taglio dei pini, interventi in via Baiocco, via Castellari e alla scuola elementare. In basso penne, bufera dopo la visita dei pescaresi, nessun ricovero prolungato al San Massimo, insorgono i responsabili di medicina e il sindaco. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sul messaggero. Partiamo dalla pagina Abruzzo, che si occupa del sisma, le ferite dell'Aquila, che evidentemente, anzi non evidentemente, non sono ancora state rimarginate completamente. Balconi crollati, le prescrizioni dimezzano l'inchiesta, si salva solo il crollo colposo tra gli indagati, il ministro Manfredi, spazzati via i reati di falso, truffa e frode nelle pubbliche forniture. Qui vediamo uno dei balconi pericolanti all'Aquila, nelle case che erano state costruite dopo il terremoto, non prima, sia chiaro. A centro pagina, strage di imprese, il pezzo che abbiamo visto prima e segue infatti dalla prima pagina, strage di imprese, piccolo, non è più poi così bello. In basso, sanità, sindacati all'attacco, veri, sono sconcertata, l'assessore ha risposto punto su punto alle critiche, intanto Pezzopane solleva il caso dei direttori dell'ASL. Entriamo adesso nella pagina di Pescara. Tra poco vedremo proprio il servizio dedicato a questa notizia, il PD no alla stangata sulla COSAP, l'opposizione chiede al centrodestra il ritiro della delibera, un salasso tare e tassa sul suolo pubblico se soggiorno. Il Partito Democratico evidenzia le contraddizioni della scelta, la Giunta penalizza i commercianti che dice di voler difendere. Allora, noi ci andiamo a vedere il servizio della nostra relazione e di Paolo Renzetti proprio su questo argomento. Il centro-sinistra critica la Giunta Masci sull'aumento della COSAP, ma si parla in queste ore anche di Italia. Andiamo per ordine, partiamo dalla COSAP, un aumento per voi ingiustificato? Sì, nel senso che intanto il primo gesto politico fatto da questa Giunta è stato un aumento del 10-12% sul canone per il suolo pubblico, che pagano migliaia di pescaresi, sia come pasto carabile, sia come bar, ristoranti per il suolo pubblico, appunto fuori da questi locali. È un aumento che scarica tutti insieme 10 anni all'aumento ISAT. In questi 10 anni, se il centro-destra e il centro-sinistra avevano appunto congelati a questi aumenti, perché c'era la crisi? Quindi, evidentemente, per la Giunta Masci la crisi è finita. La realtà è un'altra, cioè i locali stanno ancora molto, molto in crisi, le famiglie stanno ancora molto, molto in crisi, eppure si dovranno appunto a pagare decine e in alcuni casi centinaia di euro in più all'anno, perché è stato scelto che all'improvviso tutto insieme deve essere appunto scaricato 10 anni di aumenti. In più, passiccio nel passiccio, si è scelto di far sì che questa scadenza del 31 gennaio, in cui appunto si pagava la COSAP, quindi il suolo pubblico, verrà appunto esitata al 31 di marzo, che combacia con la scadenza della TARI. Cioè le famiglie pagheranno insieme TARI e COSAP, e che per un'attività economica vuol dire pagare migliaia di euro tutte insieme, ma queste non sono le bancomat. Cosa proponete? Proponiamo di rivedere queste libra, anziché la ritirassero, queste libra che davvero è un passiccio. Noi pensavamo che forse, speravamo che nessuno lo si accorgesse probabilmente, perché stavate in sordina, senza dirlo a nessuno, senza rivolgere le categorie economiche o le famiglie, in un modo davvero molto, molto antipatio. Quindi che si ritrasse queste libra, si rivedesse in modo di applicare questi aumenti ISAT gradualmente, non tutti quanti insieme, e ovviamente non con la scadenza che combacia con la TARI nel caos di queste settimane su la TARI, che davvero vuol dire chiedere ai pescheresi di pagare centinaia di euro tutti insieme, crediamo che sia davvero una cosa da cambiare assolutamente. Andiamo avanti nella lettura del messaggero, danni e voli dirottati anche a Pescara per il vento, effetto maltempo, decine di chiamate vigili del fuoco, l'Italia da Linate, deviato su Roma, c'è della staccionata ai colli e a pianella un tetto. Insomma, è il vento degli ultimi giorni, di ieri soprattutto, ma anche l'altro ieri, qualche danno, più di qualche danno lo ha fatto. Pronto soccorso del distretto sanitario, verifica sui lavori le spine della sanità, oggi in ospedale, sopra il luogo degli assessori Mascia e Dinisio, Blasioli fiducioso per Pescara Sud. Tito Acerbo in crescita, rimaniamo a Pescara con la rubrica Una scuola al giorno, con noi si trova lavoro, l'istituto più antico della città, qui si sono formati Flaiano e Cascella, il preside di Michele, offerta formativa utile anche per chi insegue una laurea. A proposito di scuola, come vediamo riproposto qui, il Ravasco verso l'ultima campanella, interviene Blasioli sabato un incontro, il consigliere regionale del PD ha invitato Sor Angelica Zippo a assicurare ai ragazzi continuità didattica. A processo per la truppa aggredita di Pietrantonio e Cellini l'8 aprile davanti al giudice per le botte al giornalista Pier Vincenzi e ai collaboratori. Un anno fa il grave episodio al ferro di cavallo a Rancitelli, i due responsabili chiesero scusa dopo qualche giorno il Premier Conte espresse solidarietà alla vittima e ci fu la decisa risposta delle forze dell'ordine. Altre notizie che leggiamo nei box, Enrico Piano niente colpi di scena sul depistaggio bis, indagine del NAS, farmacista sospesa, medicinali senza ricetta finisce nei guai. Polizia e finanza sequestrano due chili di eroina e marijuana, come leggiamo erano nel frigo di una villetta abbandonata a Colle San Donato e nel borsello di un nigeriano. Marciapiedi minati, De Martinis, siamo a Montesilvano, dichiara guerra a Fido Sporcaccione. Cambiamo la città, andiamo all'Aquila, la bus, nasce un nuovo terminal, sarà vicino l'hotel Amiternum, il comune trova l'accordo con la famiglia Baratelli, le aree date incomodato per realizzare gli stalli, ci saranno anche posti auto per i pendolari, sicurezza del traffico, modifiche alla viabilità. Il caso, quello che abbiamo letto in apertura con un richiamo in prima pagina, anche i pascoli nostrani sarebbero al rischio perché la criminalità ci avrebbe messo gli occhi addosso. Taglia le corse per Roma, tutti contro tutti, Cigella all'attacco, conseguenze nefaste, D'Alessandro contro la Mannetti, che reagisce daremo battaglia. In basso il progetto, illuminare la città, assist a Storaro. Daniele e la Acquiglio sposano l'idea della commissione a rete urbano, convegno sul tema, il 25 di questo mese. Polo Museale, direzione spostata a Chieti, lo stabilisce il decreto, nel 28 gennaio, che riorganizza gli uffici MIBACT, confermata la sovrintendenza speciale, l'Arbace dispiaciuta per la città, Munda reso autonomo, ma a destra perplessità, lo spacchettamento della rete. complessiva. La candidatura, Febbo, sostegno a Città della Cultura, l'Aquila a Città della Cultura 2021, poi l'avvertenza, Framiva alla ex ofetale, il giudice prende tempo. In basso, cultura e spettacolo, TSA presenta Blumen, una storia di passione, l'accordo ama i sindacati, no a chi contrasta. Montagne al bivio, il regolamento del parco, sì alla proroga. Supercarcere, siamo a Sulmona, verifiche nella caserma, la CGL annuncia, probabile chiusura, a causa di carenze strutturali, che non rispetterebbero le norme antisismiche. Il direttore è sopra luogo in corso, impossibile fare. Previsioni, ricordiamo l'Istituto Ospita, detenuti con 41 bis, se presto anche i terroristi, cambiamo decisamente argomento, politica, Avezzano verso il voto, PD contro Lega e Fratelli d'Italia, la politica viene diretta dall'Aquila. A centropagina, la questione è il foundry, ritorno alle 8 ore, assemblee di fabbrica, rivisondoli, tir fuori strada, per evitare bus di pendolari. E poi, a Castellisanguro, lavoro, incontro per laureati che vogliono andare all'estero. Cambiamo pagina, e siamo a Chieti, piscina in trea, processo per le polizze irregolari, per l'ex presidente della Teate Splashing, accusa di frode, nelle pubbliche forniture, i documenti emessi da Consorzio Confidi, che non era iscritto nell'albo, di Banca Italia. La storia è poi, direttore di Chieti Solidale, bando annullato, pochi soldi, a Teate Nostra, da oggi a giugno, gli incontri sulla storia di Chieti, questa è l'iniziativa, a San Buceto, per la cronaca, arrestato con 150 grammi di cocaina. in basso, due casi, il caso numero uno, Piazzale Tu, a dure critiche, da Faiza Cisal, il caso due, Filippone, campo incompleto, e forti disagi. Faist delocalizza, siamo a Lanciano, in 17, senza lavoro, una notizia di cui abbiamo parlato anche ieri, nel corso del nostro telegiornale, l'azienda porta gli impianti in Umbria, esplode la rabbia dei dipendenti, che alzano le barricate per bloccare i camion, la fuga delle imprese, un serio campanello d'allarme per la Val di Sangro, i sindacati dicono, la regione a questo punto intervenga. Effetto Bronx, siamo a Vasto, il pestaggio ripreso dalle telecamere, Corvino, grazie a noi più sicurezza, il presidente del consorzio Vasto in centro, interviene sull'aggressione, di lunedì scorso, in basso, sempre a Lanciano, il retrogusto al Chuck City, il cinema unisce l'ecologia alla buona tavola, e poi matrimonio in diminuzione, a Lanciano, ma il rito in chiesa, ritrova il suo fascino, quindi sono sempre di meno, però in chiesa, chi lo fa, lo fa in chiesa. A Teramo, giunta, scoppia il caso Costi, ora dimezzate gli stipendi, l'aumento a nove degli assessori, è aperto un fronte di polemiche, in tre rispondono ad Alessandro, lavori all'unità del nostro mondo, il consigliere d'opposizione, Luca Corona, D'Alberto, tiene insieme i cocci della maggioranza, maltempo, rafiche di vento e paura, crollo di alberi e di lampioni, in basso, ricostruzione lumaca, il presidente Marsilio, basta, servono poteri speciali, dice il governatore della regione, e poi, nonna maltrattata, ma lei ritira la querela, assolta la figlia, questo per la cronaca, poi, bomba nella pizzeria, è un attentato a provocare l'esplosione, intorno alle 4 della scorsa notte, un ordigno rudimentale nel locale, Anima Concept Pizza, il titolare, sono sconvolto, non so da chi mi devo guardare le spalle, i residenti del condominio dicono, sembrava una guerra, allora, andiamoci a vedere, anche in questo caso, il servizio della nostra redazione, Una bomba esplosa questa mattina a Roseto, l'ordigno è stato posizionato nella notte, a ridosso di una pizzeria nel quartiere Borsacchio, e qualche minuto prima delle 4, è esploso, devastando il locale al pian terreno, e danneggiando anche l'appartamento sopra la pizzeria, un fortissimo boato nel cuore della notte, è questo ciò che hanno riferito i residenti, della zona nord di Roseto, la bomba, probabilmente artigianale, era posta vicino alla cucina, a pochi centimetri dalla porta del locale, che al momento della deflagrazione, era completamente vuota, nessun ferito quindi, ma solo danni al fabbricato, sull'episodio ora indagano i carabinieri di Giulianova, le indagini intendono scoprire, chi ha costruito e posizionato l'ordigno, e perché la pizzeria è proprietà di tre ragazzi di Roseto. Continuiamo la lettura del messaggero, torniamo a Giulianova, tantissima gente per Bay, Franco resterai con noi, e poi altre notizie a Pineto, così abbiamo aiutato gli animali feriti in Australia, Frana d'Ancarano, viabilità sempre difficile, e poi a Giulianova, spaccio di Eurofalsi, blitz dei commercianti, torniamo sul centro, andiamo a Chieti, anche qui come vediamo, ritroviamo a Lanciano, faist annuncio shock, da oggi chiudiamo, per indotto automotive, licenziamento per 16 operai, di cui 9 sono donne, picchietti e cancelli, e camion bloccati, e Sevel, premia i 6 mila dipendenti, l'efficienza vale fino a 1600 euro, per l'eliminazione degli spessi, prechi delle risorse, nelle fasi della produzione, è stata riottenuta la medaglia silver, la somma sarà nella busta paga di febbraio, a Chieti, svuota le carte di credito, la polizia ferma l'hacker, forse l'ordine in azione, giovane napoletano, sorpreso a rubare 1000 euro, dalla postepedi, un teatino incastrato, grazie a un fotogramma del viso, e al riconoscimento facciale, per la cronaca ancora, blizzi dei carabinieri, cocaina nascosta nella felpa, quarantenne, finisce ai domiciliari, a centropagina, ruba una bici e chiede il riscatto, e viene denunciato, un 54enne afferra il mezzo in un negozio, e fugge, si tradisce con un vocale, mandato su Whatsapp, chiesa gremita in basso, per l'ultimo saluto ad Alessia, Ortona, mamma morta nell'incidente stradale di San Martino, Toga sulla bara, e ricordi delle amiche. Anche qui a Teramo, l'apertura è dedicata, come vediamo, alla notte di paura a Roseto, sulla SS16 Nord, attentato alla pizzeria con una bomba, l'ordigno esplode davanti alla cucina, del locale Anima Concept, i titolari, non ci fermiamo, vogliamo ripartire subito, abbiamo visto le immagini, in cui vediamo le foto, dei danni provocati. In basso, in centinaia, danno l'addio all'arbitro Wisp Giulianova, tantissime persone ai funerali di Franco Bey, morto dopo un incidente stradale, avvenuto a Teramo. Dall'altra parte, nessuna truffa con il cartellino, assolto il medico dell'ASL, Atri, a processo l'ex dirigente del distretto sanitario, accusato di essersi allontanato senza timbrare, per il giudice il fatto non sussiste, in precedenza archiviate le indagini su altre dieci persone, la discarica di Ate, oggi il nuovo esame del progetto di ampliamento. A centropagina, attentato di Silvi, via l'appello, prima udienza per l'uomo condannato a 13 anni, per aver sparato a presutti. E qui ritroviamo da Pineto all'Australia, per salvare gli animali dal fuoco. Due giovani hanno raccontato la loro esperienza a Villa Figliani. All'Aquila, scandalo progetto case, balconi rotti, il ministro rischia il processo, si decide il 25, se, pardon, il 15 di aprile, tra i 21 imputati, l'ex collaudatore Manfredi, oggi a capo del dicastero dell'università, prescritti truffa e frode, resta il crollo. Autovelox, bussi, tante multe da annullare, incontro tra prefetti a Pescara, si è scoperto che nella direzione dall'Aquila, la segnaletica è difettosa. E poi l'innovazione, sensori aquilani ai musei capitolini, tecnologia 5G con ZTE e università, per monitorare gli uffici. Assulmona, morte sospetta, inchiesta sull'ospedale, presunto caso di mala sanità, vittima una 79enne di Corfinio, il vigile e il figlio si rivolge alla procura, consegnati filmati e registrazioni di telefonate con i medici. Qui siamo già allo sport da cui andremo tra poco, però intanto siamo in provincia di Teramo con la città, Roseto, anche qui l'apertura è dedicata alla bomba che esplode davanti alla pizzeria, ritorsione o avvertimento, si indaga sull'ordigno che ha danneggiato l'anima concept pizza durante la notte, anche qui vediamo altre fotografie, e i titolari dell'attività dicono mai ricevuto minacce, noi siamo pronti a ripartire, partita anche sui social la gara di solidarietà, con una raccolta fondi per permettere la riapertura in tempi brevi del locale. Siamo alla politica qui, Alberto critica i tagli della tua, il sindaco di Teramo interviene sulla riorganizzazione delle corse per Roma, ma ovviamente le questioni che riguardano il primo cittadino di Teramo sono soprattutto quelle riguardo alla nuova giunta, insieme possiamo Italia Viva ai ferri corti, dura risposta di Podemos anche all'ex collega di Timoteo, qui non c'è spazio per personalismi, le spine della nuova giunta che però oramai è stata varata, intanto Luca Corona sfida ad Alberto a tagliare le indennità degli assessori, il capogruppo di Oltre interviene sul rimpasto, ha cercato di declinare la grave crisi come un progetto politico nuovo. Dall'altra parte, maltempo, chiesto lo stato di emergenza, danni agli edifici e all'agricoltura, anche ieri decine di interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia, le zone più colpite, i comuni di Teramo, Isola del Gran Sasso, Tosticia, Colledara, Montorio, Roseto, Giulianova, Alba Adriatica e Silvi. C'è l'invito ufficiale da parte di Gianguido d'Alberto al Presidente della Repubblica Mattarella a visitare la città in occasione della partecipazione all'apertura dell'anno accademico. Per quanto riguarda la viabilità, ok, al quarto lotto, Pede Montana e terza corsia, il Presidente della Regione Marsilio, insiste sulle tre infrastrutture per sostenere l'economia teramana. A Prati di Tivo gli aquilotti chiedono risposte immediate, l'associazione che opera proprio a Prati di Tivo esige chiarezza sull'Obelx, cannoni, sparaneve e servizi. Esuberi alla Gama slitta il tavolo in Regione, Ancarano dura nota dei sindacati che martedì si sono riuniti in assemblea assieme ai lavoratori dell'azienda. A Colonnella incontro in Prefettura sul futuro dell'ATR, il tavolo sarà accompagnato da un sit-in di protesta dei lavoratori. e Goldrec, lo vediamo, che potrebbe atterrare al porto di Giulianova. Il progetto bocciato da Teramo potrebbe riapparire allo scalo sotto forma di titano che spunta dall'acqua. Il sindaco puntiamo a diventare la città del fumetto, previste altre installazioni e iniziative nelle scuole. Giorno decisivo per il futuro di Santa Lucia. Oggi l'esame delle contradduzioni presentate contro il rigetto del progetto di ampiamento della discarica. Insomma, sappiate che oggi è un giorno decisivo, questo è poco ma sicuro. Qui siamo alla pagina di cultura, all'Università di Teramo, Levi e Gobetti. No a tutti i sopprusi incontro con Maraini e Di Paolo per la staffetta della memoria. Andiamo adesso allo sport. Partiamo con il Pescara che viene definita cooperativa del gol. assegno 13 giocatori. Le Grottaglie cerca il terzo successo di fila. L'ultima volta successa è nel 2016. Questi sono gli ingredienti della risalita dei bianco-azzurri. Solo il Pisa ha mandato in rete più calciatori 15. Il tecnico continua a lanciare messaggi motivazionali sui social. E l'abbiamo visto anche nelle scorse ore. Vediamo i giocatori che sono andati in gol dopo 22 giornate. Il capocannoniere, come vediamo, è Galano, che è anche raffigurato, però ha segnato 11 reti. Poi Macin che non c'è più, Maniero a tre, e poi vedete a due ci sono Zappa, Memusce e Tuminello. Ha una rete, Bettella, Campagnaro, Ciofani che non c'è più, Palmiero, Bussellato, Borrelli e Bocic che si è iscritto a questo lungo elenco proprio lunedì sera, mentre Zappa lo aveva già fatto contro il Pordenone. Si guarda al mercato degli svincolati, anche se tra gli svincolati convince solo ed esclusivamente Matri. L'ex attaccante del Brescia però vuole la Serie A, ma il Parma si sfila e la Juve comincia a far seguire il Baby Bocic a segno lunedì sera. Vediamo adesso l'apertura della pagina dello sport sul messaggero. Pescara, anche qui il tabù dell'attaccante, dal crack di Tuminello al precario Brunori fino all'infortunio dell'acquisto Pucciarelli. Biancazzurri peraltro non sono riusciti a reperire sul mercato una sola punta centrale. Infatti l'attacco del pezzo è, scusate il gioco di parole, l'attacco maledetto. Davvero tra sfortuna ma anche il fatto di non aver preso un sostituto di Tuminello, insomma davanti qualcosa, più di qualcosa manca. Intanto c'è la sorpresa Bocic, nasce una star dal sangue balcanico, il protagonista. Milos Bocic, come vediamo mezzo serbo, mezzo kosovaro, ma soprattutto italiano. Milos Bocic, sangue balcanico e formazione nostrana, vent'anni appena compiuti, trascorsi tutti nel nostro paese, dove è arrivato a soli otto mesi. con la famiglia potrebbe essere la soluzione a sorpresa di Le Grottaglie nell'attacco del Pescara. In basso vediamo per il Futsal, oggi e domani ripartono Acqua e Sapone Color Max, per l'Atletica gli Indore di Ancona e gli Abruzzesi. sugli scudi, andiamo in Serie C, perché il diavolo si scalda per Viterbo, l'ex Diego Cenciarelli, gara del cuore, non saprei con chi scendere in campo tra le due squadre, la squadra di Bruno Tedino, in trasferta a caccia di continuità di risultati. Per il motociclismo, anche se qui il motociclismo c'entra relativamente, perché Iannone, la Corte conferma lo stop per il caso di doping. Torniamo sul Teramo e sul centro, Teramo il bomber ce l'hai in casa, Magnaghi è decisivo, l'attaccante sale a quota 7, punta la doppia cifra. La svolta con il ritorno al 4-3-1-2 e domenica c'è la Viterbese, 23 presenze in campionato per Magnaghi, 7 le reti segnate, di cui 5 al Bonolis e 2 in trasferta. A centropagina, golle assist, Fiore Show ad Ancona, io rotto, faccio parlare i numeri. L'attaccante vastese, primo nell'eccellenza marchigiana, sto bene e lo sto dimostrando sul campo. dice Nicola Fiore. A proposito di Fiore, che insomma è vastese, ha giocato tantissimo tempo nella vastese, parliamo di vastese. Con le parole del DS Nicola Dottavio, playoff alla nostra portata, ma serve, continuità, dobbiamo fare un filotto di risultati. Poi su Massimo Silva dice, la sua carriera parla da sola, farà bene anche qui. Domenica c'è il derby tra Pineto e Notaresco, Scotti Notaresco, non firmo per il pari a Pineto. Vediamo invece, in casa Biancazzurra, arriva la capolista, il Mariani Pavone sarà giornata. Biancazzurra. Per quanto riguarda le altre abruzzesi di Serie D, Giulianova Castiglia, è stato reintegrato in Rosa, giocherà con la Re Canatese, la formazione giallorossa. Avezzano, Mecomonaco, recupera quattro titolari, e non è poco assolutamente. In vista della gara con il Tolentino, in basso il Chieti, preso il portiere Licastro, si valuta Maranzino, Sarrizzu fuori squadra, si allena con la squadra Juniores. Per la pallacanestro, Roseto alla settima sconfitta di fila. Ora è ultimo da solo, la capolista Ravenna, vita facile al Palamaggetti, domenica ancora in casa, contro Piacenza per sperare, 66-88. Il risultato finale, e poi le ultime due notizie, colpo Farnese, la Teramo Spicchi va a K.O., l'Amatori cede col Torre Spess, stasera il derby Antoniana Pescara, e in basso, in Serie C femminile, il Volley Pescara 3, sa solo vincere. Vincere. Bene, è tutto per questa edizione di Mattino 6, io vi ricordo che alle 14 c'è il primo appuntamento con il nostro telegiornale, le altre edizioni alle ore 19 e alle ore 23, Mattino 6 invece torna domani mattina puntuale alle ore 8. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona giornata. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione